E rimaniamo all'Aquila per la vicenda delle tasse sospese dopo il terremoto. La settimana che si apre sarà fondamentale per la decisione. Servizio di Umberto Braccini. Le imprese del cratere saranno chiamate a restituire per intero i contributi non versati. Dopodomani se ne saprà di più quando si conosceranno le decisioni dell'Unione Europea. I tempi comunque stringono. Secondo le circolari emanate dall'Inps e dall'Inail, entro il prossimo 16 dicembre le aziende del cratere dovranno versare le quote contributive sospese in seguito al sismo. Quali gli scenari? Ne abbiamo parlato con Enrico Susi che dell'Ineto regionale è il responsabile. Dottore, parliamo di un no alla proposta di riduzione. Cosa accadrebbe dal 1 gennaio 2013? Potrebbe essere vedersi recapitare delle cartelle sattoriali che li, sempre tramite il meccanismo Equitalia, che li ingiungono di restituire la somma. Quindi DURC negativo? Quello che è più grave è che per chi opera sul mercato, per le aziende, il mancato pagamento determinerebbe subito l'emissione di un documento unico di regolarità, il cosiddetto DURC negativo, il quale quindi metterebbe in ulteriore difficoltà l'azienda perché non consentirebbe il pagamento da parte degli enti pubblici, la mancata partecipazione a bandi di gara pubblico per la ricostruzione e così via. Grazie. 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 Grazie.